Nel centro-est si deve continuare con l'investimento in luoghi di aggregazione e valorizzazione delle associazioni avviate dal municipio. Il completamento dei lavori della scuola su Piazza delle Erbe crea un presidio tra i nuovi vicoli. L'apertura dell'asilo nel quartiere della Maddalena è un servizio per il futuro di tutto il quartiere. La riqualificazione a Carignano di Mura delle Capuccine offre una splendida vista del verde. Ora con l'inaugurazione dell'area giochi nel parco del Peralta Origina c'è un nuovo spazio di socialità per tutti. Inoltre abbiamo avviato e presto sarà conclusa la ristrutturazione della caserma Gavoglio del quartiere Ragaccio. Il centro-città è il luogo dove le nostre storie si incontrano ed è per questo che resterà al centro della mia azione amministrativa. Un impegno per nuove riqualificazioni al servizio delle persone come per me avverrà con la pedonalizzazione di Piazza Salzani. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli.